Buongiorno a tutti. Benvenuti a Learn Italian Channel. Questo è un corso di italiano per i principianti. In the previous lesson you learned colors, i colori. There was also a quiz. Come si dice the white pants in italiano? A. I pantaloni bianco. B. I pantaloni bianchi. The correct answer is B. I pantaloni bianchi. I'm sorry that last Thursday I didn't publish any episode because I was busy with the creation of my website for my channel. The website is www.learnitalian.ca You can find video, audio, transcripts and powerpoint of all episodes. You can also download them for free. In today's lesson you will hear a dialogue at the clothes shop. Let's start. Listen carefully. Desidera, signora. Vorrei vedere quella camicetta in vetrina. Quale? Quella nera a fiori? Sì. C'è anche in bianco? Certo. Che taglia porta? La 42. Un momento. Eccola. La posso provare? Sì. Il camerino è in fondo a sinistra. Come mi sta? E sta molto bene. Grazie. Quanto costa? Costa 50 euro. Mmm. È un po' caro. Mi fa lo sconto? Mi dispiace. È già in saldo. Allora la prendo. Ecco a lei. You will hear the dialogue one more time with the translations. Desidera, signora. May I help you, madame. Vorrei vedere quella camicetta in vetrina. I would like to see that blouse in the shop window. Quale? Quella nera a fiori? Which? The black one with flowers? Sì. C'è anche in bianco? Yes. Is there also in white? Certo. Che taglia porta? Of course. What size do you take? La 42. The 42. Un momento. Eccola. One moment. Here it is. La posso provare? Can I try it? Si. Il camerino in fondo a sinistra. Yes. The dressing room is down to the left. Come mi sta? How do I look? Le sta molto bene. It suits you very well. Grazie. Quanto costa? Thank you. How much does it cost? Costa 50 euro. It costs 50 euro. Mmm. È un po' caro. Mi fa lo sconto? Mmm. It's a bit expensive. Can you give me a discount? Mi dispiace. È già in saldo. I'm sorry. It's already on sale. Allora la prendo. Ecco a lei. Then I will take it. Here you are. Now there is a listening quiz. La signora compra una camicetta. A. Nera a fiori. B. Bianca a fiori. You can write the answer in my Instagram account or in the comment box on my YouTube channel. My Instagram is learn__italian20. Thank you for following, rating, and commenting on my Instagram account. And for subscribing to my YouTube channel. And thank you also for downloading this free episode of my podcast. In the next lesson you will hear a dialogue at the shoe shop. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. We're going to see you 2021. Grazie.